Amici di sport, andiamo allo sport promotion di Comasina, va in scena lo spareggio serie A di calcio a 7 open. In campo ci sono l'Ambrangeles che ha chiuso la stagione al terzo posto contro Cilento Calcio invece che ha chiuso al sesto. Dacca subito l'Ambrangeles, la conclusione respinta dall'estremo difensore. Bello qui il tentativo di 1-2 che non riesce con Valiante vicinissimo al gol del vantaggio. Cilento Calcio, il pallone per Valiante, bello il numero, Valiante! Grande tiro a giro, palla fuori di pochissimo, grande chance, ancora Valiante, ancora calcio e punizione. Scavetto di Valiante, palla sulla traversa dopo il tocco del portiere. Parte il numero 77, Paribello per il vantaggio del L'Ambrangeles. Occhio qui che perde palla il Cilento, allora contropiede per il L'Ambrangeles, pallone dentro in area di rigore. Tutto solo la calcio col destro, il numero 10 la parla rimane buona per Paribello. Calcio e punizione per Paribello, bellissima la traiettoria, palla fuori di un pochissimo. Da fuori ci prova e trova un gol bellissimo, Allegretti per il 2-0. Federico Torre, para il portiere, la palla poi rimane buona. E se lo divola, Federico Torre. Il pallone arriva proprio per il numero 10. Calcia! Incrocia benissimo, Gurulishvili. Paribello va in porta! 4-0, esplode ancora la panchina. Attenzione qui alla palla entrata, ha dato un effetto ottico diverso. Gol del 4-1 segnato da Andrea Pugliese. Calcio di punizione, la palla entra, è doppietta per Pugliese. Eccoci con Paribello, protagonista assoluto di questa sfida. Innanzitutto congratulazioni. Passate al turno successivo, c'è sicuramente soddisfazione anche per quello che avete mostrato in campo. Sì, abbiamo fatto male a tutti. Abbiamo fatto una grande partita. Noi aspettavamo questo momento perché abbiamo iniziato un po' il campionato bene. Poi, malissimo, siamo calati e poi abbiamo aspettato un momento giusto per iniziare un altro campionato. Diciamo, comunque è una grande e bella partita. Però anche loro non sono male perché due volte in campionato ci hanno battuto. E per quanto riguarda il proseguo in questi play-off, che cosa vi aspettate? Adesso, insomma, è tutto ancora molto aperto. No, niente, noi abbiamo le nostre possibilità, abbiamo le nostre forze. Metteremo in campo quelle per poter vincere e provare a vedere se riusciamo a fare qualcosa di più grande. In questi anni siamo sempre arrivati secondi, terzi. Vediamo, dai, è un bel campionato. Ci sono altre belle squadre più forti, anche una o due più forti di noi. Ma è una, forse. Noi ce la giochiamo. Perfetto, grazie mille e bocca al lupo.